Eccolo qua, eccolo qua, William Arding, William Arding, via il cronometro per lui 15 minuti e 15 secondi, intanto la media della corsa grazie agli amici cronometristi 37,740 la media, l'applauso per la coppia della Tecni Pass Eccoli qua tutti e due con Anzaloni che precede cavallo Anzaloni, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua, c'è la volata C'è la volata con Garivo che si aggiudica questa volata Ritardo del drappello che è arrivato 4 minuti e 45 secondi Poi ovviamente avremo l'ordine di arrivo completo È arrivato Andrea Innocenti, chiude con il...